L'intervento pubblico per uno sportello o qualche altro strumento in modo tale da unire, mettere in contatto la montagna con la città e soprattutto favorire e informare chi vuole cominciare a lavorare in montagna è fondamentale perché è inconcepibile, è impensabile nel 2020, anche in questa epoca così complessa, così piena di contraddizioni, che un ragazzo, un giovane, una famiglia, chiunque dalla città possa superare tutte le difficoltà che la vita in montagna pone, ma soprattutto l'inserimento nella montagna pone da solo. Ci va l'intervento pubblico, ci va lo sportello, ci va qualcuno che faccia da mediatore tra la città e la montagna. Questo è ormai risaputo ed è proprio, credo, questo il limite, non l'unico ma forse il più importante, nello spostamento dalla città verso la montagna e probabilmente anche nello spostamento dalla montagna verso la città perché ormai oggi viviamo un unico mondo, viviamo in Europa, siamo tutti nella stessa cultura, però dobbiamo imparare e avere gli strumenti per abitare ambienti diversi, in modi diversi e in modi sostenibili dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico. Quindi non si può pensare a un miglioramento della situazione, a un cambiamento, a riabitare la montagna se non esiste un intervento pubblico. Questa è la mia opinione, non credo solo mia, e questa è una politica, è proprio una nuova politica per un nuovo abitare il mondo.